Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, benvenuta Paola Caridi, giornalista e esperta di Hamas, nonché presidente dell'associazione Lettera 22. Buonasera Massimo Giannini, editorialista di Repubblica, buonasera Lucio Caracciolo, direttore di Limes, buonasera Mario Secchi, direttore responsabile di Libero. Allora continua l'assedio totale di Gaza, mentre Israele dà la caccia a Hamas. Subito dopo la pubblicità. Allora Lucio Caracciolo, oggi il segretario di Stato americano Blinken ha incontrato a Tel Aviv Netanyahu e poi anche tutto il suo governo e ha dato naturalmente il pieno appoggio degli Stati Uniti a Israele. Dietro le quinte che cosa ha detto Blinken al premier israeliano? Io partirei dalla faccia di Blinken. Oggi Blinken aveva una faccia sconvolta, emozionata e ha detto io sono qui come segretario di Stato americano, ma sono qui anche come ebreo. Mio padre Morris ha subito le persecuzioni in Russia, insomma c'era un aspetto molto emotivo. Molto personale. E questo conta, conta molto. Cioè voglio dire, non è una percezione personale di Blinken. In America c'è un rapporto, al di là anche del fatto di essere ebreo o meno con Israele, unico. Il secondo aspetto è pratico. Cioè Blinken intanto, se guardiamo la sua delegazione, già era un messaggio. Per esempio c'era il vice responsabile che si occupa di gestione ostaggi. Quindi una subito premessa che ha posto Blinken, dobbiamo fare di tutto per salvare gli ostaggi nostri e di altri paesi. E poi in un commento al lato ha detto, sì, Israele è giusto, deve reagire, deve eradicare Hamas, ma insomma ci sono vari modi di farlo. Il problema è che non sappiamo quali siano esattamente questi modi oltre all'attacco di terra e alle conseguenze che può portare. Cioè Israele si trova oggi... Attacco di terra, ovvero invasione di Gaza. Certo, sì, ma a Gaza si può entrare, il problema è uscirne. Cioè una volta che mettiamo, dopo massacri sanguinosi, eccetera, su cui non voglio speculare, ma sicuramente sarebbe un massacro, con perdite molto forti anche da parte israeliana, intendiamoci. Se dopo questo Israele deve prendere una decisione, cioè allora che ci facciamo con Gaza? Ce lo riprendiamo noi con due milioni di palestinesi? Quindi direi proprio di no, lo diamo all'Egitto, ma figuriamoci se al Sisi si prende... No, l'ha già detto poco fa al Sisi che non si aprono le frontiere di Raffa. Però tutto questo prevede che Israele vinca sul terreno, perché non è affatto detto. Un aspetto che questa vicenda ha messo in luce è che le forze armate israeliane non sono in alcun modo paragonabili a quelle, diciamo, dei tempi eroici. E oggi il capo di Stato maggiore israeliano, Alevi, ha detto noi abbiamo fallito, faremo i conti alla fine della guerra, oggi bisogna combattere. Però insomma c'è un sentimento, il morale degli israeliani non è altissimo, ecco fra le altre cose. Quindi è tutto ancora più complicato con un'eventuale invasione. Ci sono delle trattative segrete per gli ostaggi? Le trattative sono sempre segrete, anche quando Israele scambiava con Hamas erano ovviamente segrete e poi diventano palesi. Sicuramente ci sono dei canali aperti, che sono quello catarino, quello turco, eccetera, ma per il momento mi pare che né Hamas ha interesse a dare indietro degli ostaggi, né credo che gli ostaggi siano la priorità israeliana. Cioè Israele qui si gioca l'esistenza e quindi può mettere nel conto anche la morte degli ostaggi altrui ma anche propri. Paola Caridi, allora tu sei una grande conoscitrice del Medio Oriente, di Israele, dei territori occupati. Oggi l'esercito israeliano ha comunicato di aver colpito da sabato 3600 obiettivi a Gaza e lanciato 6000 bombe. Da ieri non ci sono più né acqua, né luce, né carburante, né viveri e il governo ha detto che la situazione resterà così finché gli ostaggi non saranno liberati. Quanto può resistere la popolazione di Gaza, visto che non hanno nessuna via di fuga, è chiusa completamente anche quella verso l'Egitto? Secondo me già adesso non può resistere. Se noi guardiamo le immagini che sono disponibili a chi vuole vederle sui canali internazionali, se noi guardiamo alla potenza di fuoco espressa dai caccia israeliani, capiamo che la popolazione già non resiste. Parliamo di 1500 morti, parliamo di migliaia di feriti, parliamo di ospedali in ginocchio, parliamo di persone che non sanno dove fuggire perché quella è veramente una gabbia. Per raccontarla, come dire, per immagini, l'estensione è un terzo del comune di Roma in cui vivono 2 milioni e 200 mila palestinesi e bombardare a tappeto come è stato fatto vuol dire per forza di cose colpire civili. Quelle 1500 persone sono probabilmente al 95% civili. Questo dobbiamo tenerlo a mente perché in corso sono dei massacri dei palestinesi contro degli israeliani e degli israeliani contro i palestinesi, i protagonisti, soprattutto nel 2023, sono le vittime civili da entrambe le parti e questo non dobbiamo neanche dimenticarlo perché alla fine di questi massacri ancora una volta dovremmo cercare di fare una pace. Forse sarebbe stato il caso di evitare i massacri prima. Ma questo non è successo, Mario Secchi. Tu oggi in un tuo editoriale molto duro scrivi che la sola risposta è la guerra totale a Hamas con l'assedio di Gaza, l'interruzione delle forniture di energia e acqua, bombardamenti e l'operazione di terra. Ma oggi sia Blinken e anche il nostro ministro della difesa Crosetto ha detto che non bisogna confondere Hamas con la popolazione palestinese. Tu li confondi? No, io penso che però la popolazione palestinese a Gaza abbia offerto protezione, abbia festeggiato, abbia partecipato. Gaza non viene da Marte, è là. Poi possiamo discutere su come va fatta l'operazione, ma una cosa è certa, questo è il momento della risposta di Israele e deve essere per forza una risposta dura che prevede tutte le cose che ho elencato perché si tratta di strategia militare. Devono cingere da sedio Gaza, devono fare un'invasione di terra, poi bisognerà vedere in che modo e quanto profonda, perché comunque è molto rischiosa. Devono mettere nel conto che ci saranno forti perdite, hanno già messo nel conto che probabilmente verranno uccisi molti ostaggi, forse tutti, vedremo. Quindi questo è il momento in cui Israele deve reagire. Se non reagisse sarebbe un problema ancora più grande perché sarebbe il segnale chiaro che Israele può cadere, anzi che Gerusalemme può cadere. E se cade Gerusalemme, questo è il pezzo che ho scritto per domani, si aprono scenari ben più gravi. Quindi la risposta ci deve essere e deve essere così dura per questo. Deve essere così dura per questo a prescindere dalle vittime civili che si possono fare perché diciamo anche in guerra, per quanto possa sembrare paradossale, esistono delle regole. Una delle regole principali è di distinguere tra combattenti e civili, l'altra è di non uccidere i bambini. L'altra è di fare una punizione collettiva. Sì, è difficile distinguere a Gaza tra combattenti e non combattenti, come sappiamo tutti. Ed è, e la storia ci dice che purtroppo i momenti sono drammatici. Quando Churchill insieme agli americani decisero di bombardare Dresda e Berlino, sapevano benissimo che sarebbero morti migliaia di civili e lo fecero per piegare la Germania e far finire la guerra. Questa è l'orrore della guerra ma a volte è necessario. Massimo Giannini, tu cosa pensi? Io penso che, mi rendo conto di tutto, ma questa foga bellicista ovviamente ci addolora, ci inquieta, ci preoccupa. Mi rendo conto che Israele debba reagire. L'ha spiegato molto bene Lucio Caracciolo in un editoriale su Repubblica qualche giorno fa, la teoria del cane pazzo, quella di Moshe Dayan. Israele deve essere vissuto come un cane pazzo, è meglio non disturbarlo perché altrimenti diventa pericoloso. Allora, qui è stato molto più che disturbato perché la strage del 7 di ottobre è qualcosa di terrificante che ovviamente non può essere giustificata da nulla, perché quando sgozzi i bambini e massacri i giovani che stanno ballando non c'è spiegazione possibile. È una strage di innocenti, di popolazione civile. A tutti gli effetti, quindi nessuna giustificazione di questo. Però quindi a questo punto, seguendo la teoria del cane pazzo, se Israele non reagisce vuol dire che dà la sensazione che il cane pazzo ormai non morde più nessuno e quindi Israele rischia la dissoluzione. Se reagisce dimostra che il cane morde, con quali prospettive però? Oltre alla macelleria, alla mattanza, non oso neanche pensarla, lo diceva giustamente Paola Caridi. Aspetta Massimo, siccome è lui il teoreto del... Sì, ho chiamato in causa Lucio Caracciolo. Ma il punto è questo, cioè adesso è chiaro che ormai le guerre si fanno più per fare le guerre che per uno scopo specifico, ma una volta che mettiamo, hai preso Gaza con due milioni di palestinesi dentro dopo tutta una serie di massacri, che ci fai con Gaza? Ci metti la bandiera israeliana? No. Allora, questo è il punto. Ci fai un protettorato con altri paesi armi. Però posso aggiungere solo una cosa su quello che diceva Mario, per finire la differenza con Dresda. Sai, a Dresda, si bombarda Dresda perché eravamo già dentro la guerra mondiale. C'eravamo già dentro. Qui il problema è rendersi conto che un passo... E si uccidevano gli ebrei. Ma per carità, ma io... Figurati, io, Israele, per me è un valore assoluto. Però qui il problema è che giustificare e autorizzare una vendetta, perché di questo si tratterà, comprensibile dal punto di vista umano, però è un passo verso la terza guerra mondiale. Questo lo dobbiamo sapere. C'è un coinvolgimento tale, non ultima la Russia, perché attenzione, in questo momento anche il sospetto che... No, ma lì dietro le quinte c'è anche la Russia. Ma non soltanto come agente interessato. Posso fare una domanda secca? Addirittura nell'addestramento e nella gestione e nella regia, forse, di quell'attacco, potrebbe esserci anche la Russia. Qualcuno lo sostiene? Autorevole, non io. Posso fare una domanda bruciante? E quindi, allora, reagiamo e sappiamo che andiamo verso la terza guerra mondiale. Ma scusate, a proposito della Russia, oggi Russia Today ha mandato in onda un'intervista con un alto dirigente di Hamas, che ha detto che ci hanno messo due anni per preparare minuziosamente questi attacchi contro i civili israeliani e che sono stati aiutati, tra gli altri, anche dalla Russia. Sì, e qui c'è tutta questa storia della sorpresa che francamente mi pare sempre meno credibile. Cioè, insomma, bastava leggere i giornali, cioè le dichiarazioni che hanno fatto i capi di Hamas già da aprile e maggio erano molto esplicite, dicevano qui faremo una grossa operazione, poi sappiamo che... Ma perché Israele non ha visto? Vuol dire che Israele non funziona bene. Non funziona. Ma oggi il Corriere della Sera ha scritto che il capo dei servizi segreti egiziani avrebbe telefonato a Netanyahu per dirgli guarda che attaccano. Basta leggere i giornali, non c'è bisogno del capo dei servizi egiziani. A maggior ragione uno Stato debole che è minacciata la sua esistenza, come non mai, siamo tutti d'accordo su questo mi pare, deve reagire. Ma tu lo auspichi però, questo è il problema. Io lo auspico perché mi spaventa l'idea che non reagisca. Se non reagisce è la porta aperta al prossimo emasone. Scusa, il protettorato... Mi pare una cosa un po' complicata. Il protettorato è complicato, però noi ci dobbiamo ricordare che dal 48 agli anni 60 Gaza era un protettorato. È vero che l'Egitto non lo vuole, però bisogna avere fantasia in questa vicenda. Paola Caridi, adesso interpello Paola Caridi che è una grande esperta di Hamas. Tu hai scritto un testo che è diventato un testo di riferimento dal titolo Hamas. Cos'è, cosa vuole il movimento radicale palestinese pubblicato e ripubblicato da Feltrinelli e che adesso esce con una nuova prefazione anche negli Stati Uniti, viene ripubblicato dagli Stati Uniti. Allora intanto, quanto è difficile distinguere a Gaza i terroristi dalla popolazione civile? E quanto rappresenta Hamas la popolazione palestinese a Gaza? Potrei intanto precisare che Gaza è sotto assedio da 17 anni, perché se no sembra che adesso venga cinta d'assedio, invece il problema della radicalizzazione di Hamas, dopo un tentativo di essere all'interno di una cornice di democrazia rappresentativa nel 2006, è proprio perché Gaza è sotto assedio. È chiusa da quattro lati, tre da parte di Israele e una da parte dell'Egitto, da 17 anni, cioè dal 2006-2007. Questo cosa significa? Che non funziona assediare Gaza, perché quello che succede a due milioni di persone, la maggior parte delle quali sono bambini e ragazzi, è che essere chiusi in una prigione a cielo aperto non porta alla pace. Quanto è possibile definire Hamas, i terroristi, il governo e la popolazione civile? Ma come si fa a distinguere? C'è una parte che è quella armata, c'è una parte che è la burocrazia di Hamas e del regime e l'altra parte vogliamo veramente pensare che 2 milioni e 200 mila persone siano terroristi, compresi i neonati e i vecchi di 80 anni? Sappiamo che non è così, sappiamo che quello che è successo, proprio perché adesso parliamo di cingere d'assedio Gaza, è che ci siamo dimenticati di Gaza, cioè che non abbiamo preso in mano la situazione, lo dico come comunità internazionale, e pensato che la soluzione di pace tra palestinesi e israeliani non può escludere Gaza per molti anni, soprattutto durante la presidenza Trump, e su questo Netanyahu è stato ottimo alleato di Trump, si è pensato di fare una pace con gli arabi ma non con i palestinesi, non solo, con i palestinesi di Cisgiordania, Abou Mazen, l'autorità nazionale palestinese, ma non con Gaza. Gaza è tornata talmente dentro questa tragedia da trasformare quella che per tutti noi abbiamo pensato essere una guerra a bassissima intensità, che non ci disturbava più, che era periferica, di nuovo centrale. Cosa ci insegna questa storia? Ci insegna che i luoghi bisogna conoscerli, che le persone bisogna conoscerle, che le parti in causa bisogna conoscerle e che la pace si fa fra nemici. Non si fa fra amici, questo è banale, ma è così. Lo diceva Rabin, tra l'altro, se ben ricordo. Mario Secchi, tu hai ascoltato quello che ha detto Paola Caridi, sei d'accordo con lei? O la definiresti equidistanza pelosa degli intellettuali, come hai scritto? Ci sono gli equidistanze... Spero proprio di no. No, la Caridi è una persona che ha scritto un libro importante e dell'analisi che ha fatto adesso condivido parecchie cose. Non condivido la questione dell'amministrazione Trump, quanto secondo me il colpevole è un altro, è l'amministrazione Biden. Io ritengo che tra i tanti fattori che hanno scatenato Hamas e l'hanno convinto con l'Iran, Hezbollah ed altri attori, compresa la Russia a mio avviso, ci sia il fatto che gli americani si sono ritirati dall'Afghanistan. Quel ritiro è stato un segnale molto chiaro, cioè se nel Medio e vicino Oriente... Ma tu perché parli di equidistanza pelosa degli intellettuali? Perché ieri il tuo giornale ha titolato Hamas decapita i bambini, la sinistra critica Israele. Soddisfo la tua domanda, perché io penso che non si possa... No, perché mi chiedo dove vedi l'equidistanza pelosa. La vedo nel momento in cui non si contempla l'azione militare israeliana a Gaza. Quando si comincia a dire che non bisogna intervenire, quello è un errore gigantesco. Lì c'è più dell'equidistanza, c'è addirittura l'invito a Israele alla resa, prima di tutto alla resa morale. E noi sappiamo tutti che questo non è possibile. è un modo quasi per minimizzare quello che è successo. Purtroppo io stasera, come molti dei colleghi, ho visto le foto dei bambini decapitati. Ecco, ricordiamo che Netanyahu ha postato sul suo profilo Twitter tre foto di tre bambini israeliani massacrati, due di questi con i corpi carbonizzati. Immagini veramente terribili. Sono immagini devastanti. Tra l'altro adesso esce un'agenzia e il premier Netanyahu ha rivelato che il figlio di suo nipote è anche ostaggio nelle mani di Hamas. Ora, se noi guardiamo quello che è successo e non capiamo che si tratta di qualcosa di eccezionale come nella Seconda Guerra Mondiale, come nella persecuzione degli ebrei, di qualcosa che punta non semplicemente a uccidere l'ebreo e a mostrarlo come un trofeo, ma a eliminarlo dalla faccia della Terra fin nel suo cromosoma è un piano di genocidio. Questo è il punto che noi dobbiamo cogliere. Se non cogliamo questo aspetto fondamentale non capiamo perché questa è una guerra giusta. Esistono le guerre giuste. Massimo Giannini. Se parliamo di giornali, ed è triste farlo, perché siamo di fronte e alla soglia della Terza Guerra Mondiale, come abbiamo detto, io penso che da parte di tutti occorrerebbe un sussulto di responsabilità. Perché lo dico? Perché in questi giorni, a leggere alcuni quotidiani, l'impressione è che l'Italia sia un paese dilaniato dalle polemiche e diviso tra chi dice Israele si deve prendere la sua rilincita vendetta, chiamiamola come vogliamo, non è questo il punto, e l'altra metà del paese che invece dice Israele va distrutta, ha ragione Hamas. Non è vero. Perché avvelenare i pozzi in questo modo? Perché fare titoli sui comunisti islamici? Quelli di Hamas sarebbero i comunisti islamici. Sono tre giorni che ve la prendete con Patrick Zaki come se fosse il leader... Scusa, fammi finire. Adesso poi mi rispondi a tutto. Non lasciamo finire Massimo. Poi mi rispondi a tutto. Ve la prendete con Patrick Zaki come se fosse il leader dei progressisti planetari. Zaki è un ragazzo egiziano, uno studente egiziano, liberato grazie al nostro contributo, che ha fatto un'uscita del tutto impropria nel giudizio su Netanyahu e su Israele. Ha definito un serial killer. Ma c'è la Terza Guerra Mondiale? Pensiamo che Zaki sposti le coscienze. Allora, ti faccio osservare questo. La sinistra ha colpe infinite nel passato e anche nei tempi più recenti. Oggi il ministro Crosetto, che credo sia vicino al vostro modo di vedere le cose, oggi non solo in politica estera ma anche in politica interna, ha pronunciato le stessissime parole che ha detto tre giorni fa Ellis Line. E cioè ha detto, dobbiamo distinguere tra i terroristi di Hamas e il popolo palestinese. Ellis Line l'ha detto tre giorni fa, pari pari. Allora, mi spiegate dov'è questo paese dilaniato con una sinistra che invoca il genocidio di Israele? Ma perché raccontate il paese così? Non lo è. L'Italia oggi non lo è. L'Italia non è così. Negli Stati Uniti le principali università statunitensi, voi che puntate il dito contro quattro liceali che hanno manifestato per strada, hanno fatto un documento condiviso da tutti gli studenti che dicono che quello che è accaduto è colpa di Netanyahu e di Israele. Che dobbiamo dire negli Stati Uniti? E gli studi legali vogliono i nomi di quegli studenti perché non li assumeranno mai. Stiamo parlando dell'Italia. Stiamo parlando dell'Italia. E c'è stato, scusami Lilli, l'ultima cosa, però fammela dire, un sottosegretario alla presidenza del Consiglio che si chiama Fazzolari che ha usato la tragedia di Israele per dire quindi dobbiamo fermare i barconi perché con i barconi arrivano i terroristi. Dobbiamo controllare l'immigrazione, è vero. Ma ragazzi, ma vi rendete conto di cosa dite oppure no? Io mi rendo molto conto di quello che dico e soprattutto mi rendo conto di quello che stai dicendo tu. Non un solo terrorista è venuto con i barconi, neanche uno. E vi pare che si possa oggi accostare una tragedia immane come quella del conflitto israelo-palestinese con la nostra gestione dei migranti. Tanto proporrò al Ministro dell'Interno di portare i pozzi. Stiamo sul punto perché i terroristi che arrivano sui barconi dei migranti abbiamo fatto infinite discussioni e non ci interessa adesso approfondire perché questo non è un problema. Invece, avvelenare i pozzi e creare delle divisioni nell'opinione pubblica italiana nel caso specifico ma dove stanno? Non esistono nei termini in cui vengono messi. Si sono notate le emozioni incrociate per la prima volta. Abbiate pazienza. E ti sembra scandaloso chiedere che in un'emozione ci si scriva garantire luce, acqua, gas e cibo a quella povera gente che muore. Allora, innanzitutto Zaki, rapidamente ha definito Netanyahu un serial killer questo è inaccettabile e gli israeliani fascisti è un cittadino comune e siamo veramente e ho detto tutto e voi ci aprite i giornali non c'è necessità di aggiungere altro le università sono una vergogna per quello che è successo manifestazioni dove si diceva che bisognava fare l'intifada ma non si può minimizzare cioè dal punto di vista culturale ma non si può neanche ingigantire credo ma è molto grave minimizzare perché non si ama se non si capisce se non si insegna ai giovani a distinguere ma sono quattro liceali ma qua siamo oltre no, non sono quattro liceali questo è il problema nelle scuole si predica e si formano giovani che hanno una visione completamente distorta della realtà del conflitto medio orientale di che cosa succede e di che cosa è a massimo quindi nelle nostre scuole viene inoculato questo è il virus nelle nostre scuole c'è una enorme ignoranza questo è un altro discorso non solo sul medio oriente purtroppo casomai Lucio Caracciolo sta in questi termini la questione poi ricordiamo che i giornali la stampa i media israeliani una parte sono estremamente critici con Netanyahu col suo governo estremamente sì perché io come te immagino anche tu leggo la stampa israeliana e vedo la televisione in lingua inglese quindi insomma questo lo sappiamo Lucio Caracciolo in che termini sta perché in Italia siamo anche specialisti in queste divisioni io credo che Netanyahu avesse ragione quando ha detto un minuto dopo qualche ora dopo siamo in guerra e in guerra bisogna tenere la testa fredda ho l'impressione che non tutti tengono la testa fredda che ci sia un eccesso di enfasi per quanto riguarda l'Italia è chiaro che ci sono opinioni diverse da mo' su Israele e Palestina non è che nascono adesso al di là di tutte le dichiarazioni politiche e ci sono dei pregiudizi fondamentali pro o contro il popolo ebraico pro o contro i palestinesi il problema è che non si discute sui termini della vicenda cioè sì vabbè sarà la terza guerra mondiale io dico se questa è la terza guerra mondiale siamo salvi nel senso che stiamo qui a parlarne cioè cerchiamo di vedere le cose nella loro realtà e non in quello che potrebbero diventare altrimenti veramente ci diventiamo dentro una terza guerra mondiale l'altra cosa che mi pare importante è cercare di capire di che cosa stiamo veramente parlando guardando anche un po' indietro per esempio uno dei problemi di cui poco si discute è che il problema secondo me fondamentale di Israele che non ha una vera strategia cioè Israele è un paese che per la storia che ha avuto vive giorno per giorno nella convinzione sincera non sincera ma io credo sincera di essere costantemente minacciato poi si può discutere quanto sia minacciato o meno minacciato a mio avviso in questo momento è più minacciato da se stesso che dai suoi nemici perché certamente Hamas non può da solo battere Israele in nessun modo il problema è che Israele deve decidere che cosa vuole fare se cioè vuole semplicemente come ha fatto finora rimuovere la questione palestinese e l'ho fatto con grande successo perché quando gli israeliani se ne sono andati nel 2005 da Gaza lo hanno fatto dicendo in questo modo mettiamo in formaldeide la questione palestinese ed ora in poi nessuno ne parla più siccome agli arabi non gliene può importare di meno dei palestinesi detto in termini generali e al resto del mondo figuriamoci Israele aveva fatto una scommessa positiva non considerando però che ci sono sempre i palestinesi di mezzo e quindi se quelli a un certo punto anche per le ragioni che ha ricordato prima Paola si trovano quelli di Gaza nella condizione di pensare di fare un'operazione di massacro israeliano e quindi di reazione israeliana insomma la questione resta lì cioè non si può più semplicemente rinviare la questione palestinese e allo stesso tempo bisogna ammettere che non ci sono più soluzioni di tipo diplomatico a portata di mano e quindi questa storia dei due stati è diventata francamente un'ipocrisia insolerabile voglio sentire Paola Caridi una ipocrisia insolerabile la storia dei due stati quindi uno israeliano e uno palestinese e appunto non si capisce bene dove bisognerebbe costruire quello palestinese visto che la Cisjordania è piena di colonie di insediamenti e poi ti volevo anche chiedere visto da lì tu hai l'impressione che in Italia si cerchi di avvelenare i pozzi come dice Massimo Giannino o ha ragione Secchi posso dire francamente che dopo dieci anni a Gerusalemme di vita a Gerusalemme e due anni al Cairo essere qui ad Amman a vedere qui la tragedia per me è un modo diverso perché in Italia per me sarebbe stata molto dura molto dura perché questa tifoseria questa propaganda che leggo che tento di non leggere mi avrebbe veramente fatto male da qui è tutta un'altra storia da qui è una storia regionale mi permetto di dire non solo una storia fra Israele e Palestina da qui è una storia regionale e non solo sottovaluterei proprio dal posto in cui sono cioè ad Amman non sottovaluterei quello che può succedere se per caso arrivano profughi non solo in Egitto ma per esempio in Giordania che è un paese che è diventato lo hub delle Nazioni Unite eccetera eccetera mi permetto anche di sottolineare che se leggessimo di più la stampa israeliana sono una fedele abbonata da Arez vedremmo che la parola fascista viene usata dai giornalisti israeliani e ci stiamo secondo me dimenticando proprio per dar ragione a Lucio Caracciolo di questi nove mesi in cui milioni di israeliani ebrei sono stati in piazza contro il governo Netanyahu e contro l'estrema destra che è stata una delle ragioni anche della falla alla sicurezza israeliana lungo la fascia attorno al confine di Gaza lo dicevano da mesi gli ex capi del Mossad dello Shimbeth di tutte le unità speciali israeliane che partecipavano assieme ad ex premier ex capi di stato maggiore ex ministri della difesa alle manifestazioni contro l'Ettaniao lo dicevano una delle cose in ballo è la sicurezza di Israele con questo governo e questo è successo e questo è successo tra l'altro vi volevo aggiornare che a Parigi sono successi tafferugli a queste manifestazioni pro-Palestina ricordiamo tra l'altro che da oggi il ministro dell'interno francese Darmanin ha proibito manifestazioni pro-Palestina allora torniamo in Italia e parliamo di tre assoluzioni eccellenti ce ne parla Paolo Pagliaro nel suo punto guardate la guerra tra guardie e ladri gioco che appassiona cronisti e pubblico talvolta riserva clamorose sorprese in alcuni casi le sentenze dicono infatti che i ladri non erano ladri e che le guardie avrebbero dovuto fare meglio il loro lavoro ieri è accaduto per ben tre volte dopo 11 anni la corte di Cassazione ha assolto Giuseppe Mussari e Antonio Vigni presidente e direttore generale del Monte dei Paschi quando la banca iniziò a tracollare le accuse andavano dal falso in bilancio alla manipolazione del mercato quando scoppiò lo scandalo Mussari era anche presidente dei banchieri italiani in carico che ovviamente dovette lasciare oggi sappiamo che non aveva commesso alcun reato dopo sei anni una sentenza ha restituito ieri l'onore anche al giornalista Roberto Napoletano l'ex direttore del Sole 24 Ore costretto alle dimissioni perché imputato di aggiuntaggio e false comunicazioni sociali lo accusavano di aver contribuito a truccare i conti del giornale gonfiando il numero delle copie vendute dopo l'assoluzione ora il quotidiano del sud dove Napoletano si è trasferito non sarà più diretto da un pregiudicato e molti amministratori di giornali potranno tirare un sospiro di sollievo ma la sentenza più clamorosa è quella che ha mandato assolto dai reati più gravi l'ex sindaco di Riace Domenico Lucano in primo grado condannato a 13 anni e due mesi di carcere Lucano sindaco dal 2004 al 2018 del comune calabrese e inventore di un modello di integrazione dei migranti studiato in tutto il mondo doveva difendersi dall'accusa infamante di aver utilizzato i fondi destinati all'accoglienza per trarre vantaggi economici personali non era vero e bastava essere stati a Riace e aver conosciuto Lucano per rendersene conto ecco Mimo Lucano ha avuto una forte riduzione di pena allora noi siamo in chiusura grazie Paola Caridi ricordo il tuo libro Hamas pubblicato in Italia da Feltrinelli e nel mondo di lingua inglese in America da Seven Stories Press grazie Mario Secchi grazie Massimo Giannini grazie Lucio Caracciolo ricordo il tuo ultimo numero di Limes dal titolo La Cina resta un giallo grazie spettatrici vi lascio a Corrado Formiglia su Piazza Pulita e noi come sempre domani 8 e mezzo arrivederci